Puoi darmi un bacio, Nello? Ha detto se vuoi andare in Osel con lui. Quindi per vedere me e lui nudi. Obbligo o verità, ragazzi? Dopo Milano ci avete scritto in tantissimi obblighi e tantissime verità da fare in giro. E oggi siamo a Roma, a Ponte Milvio, per fare i nostri giochi. Ciao ragazzi, oggi giocheremo ad obbligo o verità? Scegliete. Obbligo. Devi chiamare una tua amica e dire che sei stata contattata da un influencer, una persona molto molto famosa, che ti ha chiesto di salire da lui in hotel. Vediamo lei cosa ti consiglia di fare. A voi da chi è che vi piacerebbe essere contattata di famoso? Sono davvero dei Maleskin. Sono davvero dei Maleskin. Pronto? Stavi dormendo? Come si? Senti, ti devo dire una cosa. Si è fatto un presserata a Piazza Bologna. Sono un gruppo di ragazzi, erano tutti bardati, c'era un po' di gente intorno, quindi ci si avvicina. C'era sto tipo, un tipo abbastanza conosciuto, però non posso dire chi è. Ma Giabella è scritto su Instagram e tutto. E niente, praticamente domani mi ha detto se voglio andare in hotel con lui. Però non so se me la sento. Secondo se? Che cazzo mi piace, poi non ti esco. No, vabbè, è perché non te lo posso dire. Te lo posso dire quando poi ci esco, magari. Tu non dici, io non posso tardi con la scuola. Comunque, vabbè, ci vado. Perfuso. Maggi, che ti devo dire? Poi ti faccio sapere. Perfuso. Obbligo o verità? Verità. Allora ti chiedo di dichiararti alla tua più grande cotta del liceo. Qui davanti a tutti. Ok. Ludovica, sei sempre stata la mia cotta. Ti ho sempre guardato con gli occhi dell'amore, solo che tu non mi cacavi perché probabilmente ero un cesso. Però adesso fa un c***o, Ludovica, perché sono un fregno e non mi d'in culo più. Fa un c***o. Questa è la dichiarazione, ragazzi. Vero amore. Obbligo o verità? Obbligo. Tutta la vita. Obbligo, obbligo. Allora vi chiediamo di andare da delle persone, potete scegliere voi chi, e chiedergli di abbonarvi al vostro profilo HolyFans. Dovete essere persuasivi, eh. Va bene. No, aspetta. Però a me non mi piace sta sfida, devo scegliere voi chi. Scegliamo noi chi. Guarda quanta gente c'è lì. Oh, mi raccomando, bella e carina, eh. Ragazzi, ragazzi, per piacere. No, secondo te sembriamo sorelle. Assolutamente no, perché siete carine una ognuna. Abbiamo una richiesta importante. Allora, noi abbiamo un profilo HolyFans. Vi dovreste abbonare, per favore. Onestamente, costa 15 euro. 15 euro. Per vedere me e lui nudi. Completamente. Forse non fa troppo 15 euro. Il primo mese è gratis. Fate vedere via i tuoi appassi. Anche, anche, no, su richiesta, su richiesta. Scusate, posso fare un test della qualità? C***o. 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 Scusate. Oh, su non sono dei piedi incredibili. FANTASTICI. Ragazzi. Ragazzi. Buonanotte. Buonanotte. Abbonatevi a HolyFans. Verità. Allora, vi chiedo se avete mai tradito. Sì. Sì. Attenzione. Cioè, non una cosa proprio... Il senso... Un bacetto. Un bacetto? Mi sa che non è solo il bacetto. No, sì, giuro, giuro. È solo il bacetto. Voi confermate? Ma io non lo so. Non lo so. Ma io mi chiedo. Ma lontano anni fa, eh. Lontano anni fa. Nel 2019. Invece voi? Anche io un bacetto. Eh, quello. Siamo brave ragazze. Si, si lascia. Dopo il tradimento si lascia ragazzi. Non si dice il tradimento, però si lascia. È una cosa divertente, se no mi fa scappare i ragazzi. Sì, sì, no. Beh, ah, sì. Hai le appena conosciute? Allora potrebbero scappare. Vuoi fare obbligo o verità? Dai, obbligo, obbligo. Allora ti chiedo di baciare a stampo uno dei tuoi amici. Ok. Dov'è Lorenzo, regà? Oh, Nello. Nello, pensa che io... Tipo una bella figa, Fra. Però comunque è un obbligo un po' di me***a. Puoi darmi un bacio, Nello? Fra, è successo un casino. Che c'hai là? Eh, Fra, è successo un casino. Che è sta roba? Eh, guarda. Eh. No! E adesso? Non c'è il cascato, eh, vabbè. Obbligo o verità? Verità. Verità. Il gioco è questo. Dovete dire due cose che odiate l'una dell'altra. Puoi iniziare tu. Comincerò io. Che programmi sempre tutto. Tu programmi tutto. Programmo la vita in tutti gli ambiti, sia scolastica, sia sentimentale. Anche programmi televisivi. No, questi no. E una cosa che non mi piace di te, alcune volte magari dici una scusa e non mi fido totalmente che deve fare quell'altra cosa. Vai. Adesso veramente mi trovo in difficoltà. Se ti viene in mente, dillo prima te. Vabbè, questa non è una cosa che non è un suo difetto, però è una cosa che... Tu subito li hai trovati difetti. No, questo qua non è un difetto, ma è una cosa che le invidio che è molto spesso e tipo molto più determinata di me su alcuni aspetti. Dobbiamo dire che quello che ti invidio io è la tua altezza. Da che dovevate dire cose negative? No, dai, siamo troppo amiche. Siete amiche. Non li troviamo, non li troviamo. Non volevamo farvi litigare. No, no, non riusciamo. Saresti mai con un uomo di 50 anni, insomma, più vecchio di te solo per i soldi? No. Cioè, ci ha pensato, ci ha pensato. No, 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 no. Non siamo con il digger. No, 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 no.